Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video io sono Simogame1306 e oggi andremo a verificare la nuova uscita di Farming Simulator 2022 come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche e restare aggiornati sul canale mettere mi piace al video e ovviamente condividerlo e commentarci sotto ma bando alle ciance cominciamo questa presentazione del nuovo Farming a tra poco bene ragazzi eccoci qui allora andiamo su il sito ufficiale della Giants andiamo qui ovviamente perfetto allora come vedete sul nostro bel sito di Farming Simulator troviamo appunto già su home la scritta Farming Simulator 2022 col capello di Farming e la macchina ricoperta ovviamente da neve che già qui è un indizio su cosa troveremo sul gioco ufficiale abbiamo la scritta Coming Q4 2021 che segna in teoria che uscirà nell'autunno 2021 io so che tutti i Farming Simulator sono usciti nella fine di ottobre inizio ottobre di tutti insomma gli anni io ho sempre visto così dopo magari c'è sempre stato un cambiamento però vabbè insomma adesso andremo a verificare cosa che troveremo allora perfetto allora Farming Simulator 22 lascia che i bei tempi crescano questo autunno perciò già il titolo questo autunno ci lascia un indizio su quando u potrà uscire andiamo in giù troviamo vuoi un nuovo Farming Simulator vero otterrai Farming Simulator 2022 scusate arriverà su vabbè le solite piattaforme che troviamo tranne le piattaforme nuove che troviamo sono PlayStation 5 e forse Xbox Series se non sbaglio io l'Xbox Series non l'ho mai vista almeno io non lo so voi ditemi sui commenti troviamo il PC il Mac la nuova PlayStation 5 l'Xbox Series X-S che non so cosa potrebbe significare non chiedetemi e PlayStation 4 e Xbox One e Stadia questa autunna che non so cosa sia Stadia può essere una nuova console boh non lo so comunque andiamo avanti ancora una volta il nuovo gioco compie un grande balzo in avanti con nuove funzionalità e miglioramenti man mano che Giant Software cresce con la serie e per la prima volta pubblicheremo da soli il nuovo titolo perciò come vedete abbiamo saltato il capitolo del 2021 e siamo passati direttamente al 2022 abbiamo ci hanno fatto attendere 2-3 anni per goderci farci godere un po' meglio il 2019 che appunto devo dire è un gran bel gioco un gran bel farming simulator e con quello hanno veramente battuto tutto ma attendiamo il 2022 che penso che sarà ancora meglio del 2019 guarda il taser trailer in CGI qui sotto che offre un piccolo assaggio del nuovo gioco e niente io ora ve lo farò vedere a posto ora vedrete il trailer di farming simulator 2022 a tra poco eccoci qua allora avete visto il trailer di farming simulator 2022 come avete visto abbiamo avuto il cappello che cade sulla macchina prima avete notato ci sono le foglie e poi c'è stata la neve allora questo è già un segno che secondo me avranno inserito le season ma appunto penso sia già così andiamo avanti a leggere lascia che i bei tempi crescano e qui ci ritroviamo un'immagine di farming simulator del gioco con appunto il cambio di stagioni vedete qui c'è l'autunno questa dovrebbe essere la primavera no aspettate ho fatto l'inverso c'è l'estate la primavera scusate autunno e inverno vabbè le ho fatte in ordine un po' strane però vabbè lasciamo perdere comunque si sono le stagioni preparati per nuovi raccolti nuove mappe nuove macchine nuove marche e altro ancora perciò qua la scritta le scritte ci dicono già tutto che verranno inserite ancora nuovi macchinari nuove raccolti e delle nuove macchine scusate delle nuove mappe e dei nuovi nuovi marchi di appunto macchine come ho detto prima e ci sarà altro ancora io spero che inseriscano altri animali almeno credo ci saranno degli altri animali penso non lo so oh e sta iniziando a nevicare perciò qui ci dice già tutto è inclusa anche l'aggiunta di cicli stagionali così come altre funzionalità come saranno annunciate presto ecco perciò sappiamo che appunto come si immaginava ci sono le sezioni due nuove mappe più una mappa e l'ergrant aggiornata consentiranno diversi tipi di operazioni agricole perciò è già una l'ergrant se non sbaglio era la vecchia mappa di farming 19 più di 400 macchine e strumenti di oltre 100 autentici marchi agricoli comprese su nuove categorie di macchine renderanno l'agricoltura la zootecnica e la si agricoltura ancora più divertenti che mai perciò qui ci dice già che ci saranno nuovi macchinari in breve farming simuletto 22 offrirà una profondità grazie va bene insomma qui abbiamo capito ed ecco qui un punto di riferimento ci troviamo la nostra bella ch770 che sarebbe appunto la trebbiatrice della new holland indizio abbiamo la paglia reale quando vedete qui sulla trebbia viene fuori la paglia reale perciò è già un buon indizio dunque e ritrodo l'aggiornamento del motore aumenta le prestazioni e il realismo perciò qui ci dicono che il realismo ci sarà farming simuletto 22 è basato su Giants e Giants 9 e include una serie di miglioramenti come un comportamento al più realistico e mondi più ricchi con il riverbero graduale dei motori la selezione delle marce e le variazioni tonali a seconda del carico il suono si sposta verso maggiore realismo perciò qua cosa ci dicono qui ci dicono che quando noi avremo un trattore sotto sotto sforzo ad esempio che ne so un trattore trasporta un rimorchio pesante il sound aumenterà di più perciò avremo una cosa realistica io ho anche intuito quando che saremo fermi che magari vogliamo tirare un'accelerata come fanno tutti magari volendo star fermi tiriamo la marcia e cominciamo e cominciamo ad accelerare più che ne possiamo e le prestazioni anche questo migliorerà il supporto direct x12 per windows perciò qua ci danno un indizio in teoria su cosa dobbiamo utilizzare per windows l'ottimizzazione del multi trading lo streaming delle texture l'abbattimento delle occlusioni e l'anti aliasing temporale tra le altre ottimizzazioni daranno a farmi simulator 22 una spinta su tutti i sistemi ponendo le basi per moda ancora più complesse personalizzazione e persino spingendo i limiti delle console last gen per godere di un migliore utilizzo degli slot perciò cosa ci vogliono dire su questa parte ci vogliono dire che aumenteranno barra arriveranno gli slot infiniti diciamoli infiniti perché non si può sapere ancora può essere che mettano gli slot infiniti può essere che aumentino la possibilità di avere degli slot più decenti di averne di più qui non si sa ne ancora però verrà annunciato in futuro passiamo avanti non è tutto resta sintonizzato perciò qui ci saranno altre novità altre funzioni di dettaglio verranno annunciate non appena saremo pronti per la condivisione al momento opportuno restate sintonizzati fino a quando non sveleremo nuovi elementi nelle prossime settimane e mesi perciò come vedete nelle settimane prossime barra mesi verranno annunciate altre cose qui possiamo notare già delle immagini con una bella trincia della Fendet Katana poi ci da un indizio appunto vedete i stocchi per terra io vedo anche non so se sbaglio silo silo trinciato poi ci da un indizio della barra quando che raccoglie si fa appunto come si dispiegano tutte le piante e vabbè il personaggio ecco il che è avremo un personaggio diverso la trincia è nuova e nient'altro la taria simulator 2022 i distocchi che restano per terra poi vediamo che altri indizi ci abbiano dato vabbè la semina è quella con il massi nuovo di nuova generazione e basta poi abbiamo questo bel John Deere con l'erpice se non sto dicendo una cavolata però e come possiamo notare quando noi andremo a coltivare troveremo la parte dietro che sarà appunto più realistica e io fino a qua non ho notato nient'altro io almeno oltre vabbè alla stalla che ci danno con le muc con le vacche scusate non ho notato nient'altro perciò penso che arriveranno altre novità nelle prossime settimane barra mesi spero molto presto per capire cos'altro ci sarà di nuovo poi i veicoli non lo sappiamo ne ancora cosa ci sarà i veicoli penso che verranno annunciati molto più avanti prima dell'uscita comunque si sa che il gioco uscirà nell'autunno 2021 2021 si scusate uscirà nell'autunno 2021 qui non si sa nient'altro si sa solo che hanno migliorato la grafica si sa solo che hanno migliorato appunto i raccolti eccetera hanno migliorato i veicoli e basta il realismo dei veicoli e hanno aggiunto la season e nuove mappe e fino a qui non si sa nient'altro però va bene ragazzi che dire se noi andiamo a cercare farmi il simulator 2022 penso che si troverà qualcosina almeno credo spero no non si troverà niente di niente ma va bene speravo di trovare qualcosa anche sulle immagini ma niente va bene ragazzi che dire dal nuovo annuncio di farming simulator 2022 è tutto spero di esservi stati chiari su questa presentazione io spero che arrivino altre novità molto 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 presto e come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando la campanellina per restare sempre aggiornati mettere mi piace al video condividerlo e commentarci sotto beh che dire noi ci possiamo anche salutare qui da farming della giants è tutto e noi ci vediamo ad un prossimo a un prossimo video ciao